Non si placa l'ondata di furti che negli ultimi tempi sta interessando il Cilento e in particolare la zona del Golfo di Policastro e che sta provocando non una vera e propria psicosi ma un po' di preoccupazione a causa dei continui episodi di furti in abitazione. Questa volta, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, nel Mirino dei Ladri sono finiti due appartamenti situati in contrada Oliveto, nel comune di Vibonati, dove i malviventi hanno potuto agire indisturbati. Al momento del furto, infatti, le due abitazioni erano incustodite, una disabitata e l'altra chiusa, trattandosi di una casa a vacanza. Se con una prima ricostruzione da parte dei militari della locale stazione dei Carabinieri, i ladri sono tranquillamente entrati dalle finestre scassinandole e una volta dentro gli appartamenti hanno afferrato quello che hanno trovato. Un televisore e oggetti vari nelle stanze e nel deposito un tempo ex ristorante del proprietario della prima abitazione e un televisore e una vecchia twingo nell'alloggio estivo. Ora, i Carabinieri stanno lavorando sulle immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza che hanno potuto riprendere quello che, si pensa, sia un unico gruppo di malviventi che agisce sul territorio. Più che l'entità del furto, infatti, a mettere in apprezzione e la quotidianità di questi episodi con caratteristiche ormai standardizzate, al punto che l'ipotesi più probabile è appunto quella di avere a che fare con ladri che si muovono e si spostano in comitiva da un posto all'altro. In quest'ultimo caso sembrerebbe si tratti di professionisti di basso livello, dato che la banda è entrata in azione in totale assenza di persone in case. Ma l'attenzione dei Carabinieri su questi avvenimenti resta alta.